Ubi sempre vicina al settore, vicina ad una fiera che quest'anno tra l'altro compie 40 anni. Sì, l'impegno di Ubi è quello di offrire qualità al servizio e supporto delle aziende del comparto orafo e questo lo fa rispondendo a quelle che sono le esigenze del settore. Offre professionalità di persone dedicate, specialistiche, dotazioni tecniche, informatiche, strumenti e in più anche un ampio ventaglio di prodotti destinati sia alle imprese di produzione che alla cliente e alla privata. Chi vi cerca a Dolorezzo vi trova in questo stand? Credo che sia un bellissimo stand che oramai ha una certa continuità da tanti anni, e anche questa è una bella conferma, altrimenti sia tutto per scontato. Invece la volontà di Ubi è stata quella di dare continuità a questa nostra presenza, anzi rafforzare in qualche modo l'immagine della banca nel territorio e questo credo che sia un bel segnale da parte di Ubi nei confronti di tutto il territorio della provincia retina.